Confermato almeno per il momento lo sciopero dei trasporti in Abruzzo per il 15 settembre. Rolandi, ieri avete avuto un incontro con la Regione per parlare delle problematiche del trasporto pubblico locale. Restano però le distanze con i sindacati? Sì, assolutamente. Infatti lo sciopero resta confermato. Uno sciopero tra l'altro proclamato unitamente alla CGL regionale perché noi stiamo contestando questo processo di riforma messo in atto dalla Regione Abruzzo e noi contestiamo intanto il fatto che questa Regione sia l'unica forza in Italia a non aver legiferato sui servizi minimi essenziali e che ha permesso tra l'altro alla magistratura contabile di emettere anche delle sentenze che hanno puntato l'indice contro la Regione per non aver legiferato. Ma noi contestiamo anche altre cose. Noi contestiamo ad esempio l'idea della Regione di decontribuire, quindi di togliere la contribuzione su alcuni servizi interregionali essenziali che garantiscono i collegamenti a migliaia di pendolari che sistematicamente, quotidianamente si spostano dai comuni dell'Aquila ma anche dal comune di Teramo verso la capitale. Stiamo parlando di tantissimi pendolari che peraltro non hanno un sistema alternativo di mobilità collettiva. Quindi togliere la contribuzione significa esporre i cittadini di queste due province all'aumento delle tariffe ma anche alla diminuzione dei servizi. Noi chiediamo che la Regione torni indietro sui propri passi perché noi ad esempio siamo favorevoli al che la Regione affidi i servizi in house alla società regionale di trasporti, operazione che va fatta entro il 30 settembre. Non riusciamo a capire però il motivo concreto per il quale insieme all'affidamento in house si debba procedere anche ad una cessione di ramo d'azienda, quindi a trasferire tutti i servizi a lunga percorrenza che sono servizi che producono degli introiti notevoli per la società regionale di trasporto. Stiamo parlando di circa 8 milioni di euro di incassi che derivano soltanto dalla vendita dei titoli di viaggio. Quindi non capiamo perché questi servizi che sono i più redditizi di TUA debbano essere trasferiti in un'altra società che è sempre di proprietà della Regione pur sapendo che la legge consente benissimo di poter fare la stessa identica operazione quindi arrivare allo stesso identico risultato essenzialmente facendo una separazione contabile delle attività di trasporto pubblico locale da tutto il resto.